martelli rossonieri amici rivai youtube buongiorno 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 un par di cazzi guardate che bella questa è comunque sui nostri colori la squadra va sempre tifata va sempre amata troppo facile comunque quando le cose quando le cose vanno quando le cose vanno vanno bene tifare quando le cose vanno male comunque mollare mollare la baracca e tirare soltanto su insulti chiedere ragazzi prima di iniziare l'invento qua sotto nel primo messaggio a comprare comunque le magliette qualsiasi squadra voi che ti fiate ci sono anche le fempe nazionali sui scarpe d'accaccio per chi piace il basket sono le magliette da basket donna uomo bambino già che c'è di tutto c'è ragazzi che si dire ragazzi pensate voi che sono qua istamul che dice la 9 luce ha fatto un culo così perché diciamo che l'ha fatto una gran cazzo di partita il calla sto figlio di puntini puntini ha fatto una gran cazzo di partita bisogna riconoscerlo non sapete quanto mi fanno di dirlo perché lo odio come persona odiare vabbè odiare una brutta parola però non mi piace come persona ma c'era nodo non si è comportato con mila però c'è da dire qualche rimpianto che si poteva fare qualcosa in più per tenerlo dalle qualcosina in più si poteva sicuramente fare non per quell'altro che con l'altro invece da lo vi abbiamo fatto un affare comunque altro ancora invece con franco ne vogliamo parlare non si poteva dare qualcosina in più e tenerlo no non si poteva va bene non lo tieni rimpiazzalo almeno però figlio mio rimpiazzalo non è neanche rimpiazzato insomma non è neanche rimpiazzato non è carino comunque sia come si è comportata alla società davanti praticamente le note belle di ieri sono sandro che ha fatto una cazzo presa anche sotto vedere una cosa sul secondo gola colpa sandro non l'ha seguito lui militare ma è la squadra la cosa che ho rivisto adesso un attimino un po di un po di partita cioè eravamo solitamente noi siamo forti quando noi giochiamo tipo in 40 metri 30 40 metri ma me l'ha fatto colazione un po di tempo di un buffet qua ragazzi in turchia la mattina quando ti svegli che ti viene subito fa ma anche se non ce l'hai comunque stavo dicendo solitamente giochiamo in 40 metri e quando poi giochiamo in 40 mentre noi che la squadra è bella corta e compatta noi mettiamo in difficoltà chiunque perché siamo una fisarmonica che va su e giù quando invece giochiamo sfilacciati così non può andare a giocare e la partita che non l'ha preparata bene ma non a livello di chi ha giocato doveva giocare questo invece che questo bisognava stare attenti a parte che ieri c'era un simon kirk ragazzi contro queste squadre qua veloci non può giocare troppo lento ieri a parte che proprio non era proprio in partita ieri non era proprio in partita ieri non c'era con la testa non lo so che cazzo ma ma io dico una cosa poi ragazzi ho visto il gol dell'angolo analizziamo il gol che abbiamo preso il gol sull'angolo hanno fatto un blocco consegno che partito dietro danfris che ha fatto blocco non mi ricordo su chi con calabria che era il primo che praticamente andava vi ho detto che bisogna cioè una settimana che ho avuto il canale allora avete che avete mi siete dimenticati tutto quello che vi ho detto vi ho detto che l'uccello del difensore nostro deve essere appoggiato sul membro il membro del del nostro difensore deve essere appoggiato delicatamente sulle nanno delicatamente spudoratamente sulle natiche dell'avversario vi spiegate come che cazzo ci faceva calabria su zeco l'ho detto anche ieri ma spiegatemi che cazzo ci faceva calabria su zeco cioè una cosa zego se lo prende simon cioè se lo prende tomori ma che cazzo c'entra calabria calabria non deve neanche marcare in mezzalora cosa c'entra è alto è il più basso di me cioè io non lo so io boh ok già da lì fa capire che la testa non c'era secondo gol eravamo lunghi come non so che cosa ma lunghi 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 come non so che cosa siamo andati hanno fatto una gran cazzo di azione sandro non ha seguito l'uomo perché non so dove cazzo nel momento di poi da lì sandro ha fatto una gran cazzo di partita perché si è reso conto che ho commesso un errore infatti l'unico video 7 ieri sandro a lui a maniana anche perché c'è assoluto le sale le cassane dal fuoco due volte ho detto ieri sui gol di manian gli ha tirato comunque da quattro metri tanto che sapete che un cyber di solito è andato a scegliere ha intuito che tirava da quella parte la invece questo quale alla messa centrale militare è sottovalutato invece per me un gran cazzo di giocatore ancora loro ragazze centrocampo c'erano mkhitaryan barella barella e ciappa merda però ciappa merda ragazzi è ancora un signor giocatore c'entra a fare quella posizione lì e le ha trovato la posizione giusta e i piedi comunque ce li ha c'erano il tiro abbiamo visto che c'erano meno male che lì per questioni di limitri non ci ha infilato il terzo se non ripetiamo un imbarcata fatti su 20 almeno per arrivare a prendere 0.20 ma perderà 5 60 o 40 un pochettino diverso noi abbiamo fatto due azioni belle quella di sandro che ha preso il palo e quella di questo maro in questo maro di messia scherzando gli ha messo di una palla gli ha messo di una palla ma gli ha messo di una palla gli ha messo e questo qua veramente sul suo piede poi a parte che lento mi chiedo ancora messia come c'è loro ma li avete visti loro cambio cioè loro cambi li avete visti brosovic lukaku cioè ma stiamo scherzando correa c'è da noi entrato orighi guarda l'unica nota buona che mi ha visto che orighi comunque sia può giocare infatti al ritorno io metterei orighi a destra io giocherai tutto per tutto con orighi leao e giro tanto ormai perso per perso ben asser pare che recuperi perché ho visto che soltanto dovrebbe avere una contusione da quello che si dice una forte una una presa soltanto una una un contrasto si è preso un ginocchio contro ginocchio che fa malissimo ve lo posso assicurare però non dovrebbe esserci niente di rotto spero perché anche ragazzi i miei cos'è oggi giovedì dopo domani c'è la spezia c'è la spezia dopo domani e vi dico che la spezia è una squadra che deve salvarsi e noi siamo una squadra che va bene che l'altra dopo c'è la sampdoria che comunque già retrocessa ma dopo c'è la juve va bene che la juve se c'è un dio in terra la penalizzeranno come giusto che sia però non vi fate incantare che siamo già in champions che siamo già di qua che siamo già di là ok non vi fate incantare da queste cose perché abbiamo un calendario che abbastanza abbordabile perché poi mica l'ultima poi c'è il verona che speriamo che sia già salvo così almeno giochiamo giochiamo in casa fratto col verona l'ultimo mi pare questa fuori poi in casa poi forse dovremmo giocarsi che avevano giocato a verona andata mi sembra comunque penso di sì comunque sia per il verone scarso quest'anno quindi 9 almeno 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 mi auguro almeno sette punti in quattro partite dovremmo fare dovremmo fare almeno 9 9 9 in quattro partite per avere la matematica la matematicità di essere in champions perché la juve se c'è un dio la retrocedono dietro quindi comunque diventiamo quarti l'inter ce l'abbiamo due punti comunque ragazzi ieri in zaghi a pioli avrà giocatori più forti ok ma sul piano comunque del della della tatticità l'ha completamente demolito mentre quando si è messa dietro giocava in 30 metri ripartiva cioè noi ragazzi dall'inizio abbiamo giocato sfilacciati abbiamo giocato soltanto sui nervi fra l'altro abbiamo l'unico che vinceva i contrasti è stato proprio sandro tonali perché ragazzi dietro è stato veramente un panico io sto punto se devo vedere un kier così cioè rimetto subito dentro calulu calulu e tomori era una coppia perfetta cioè mi devo vedere dentro loro sono veloci davanti ragazzi zekon con un gran cazzo di giocatore e pure veloce zekon c'è zekon non è soltanto il pilone là davanti che ci hanno le forti di testa zekon è forte un gran cazzo di giocatore zekon l'ho sempre detto cioè holly protegge palle tutto nuovo dare a questo qua invece di da anche la profondità ti mette proprio in difficoltà ed è pure veloce perché c'è una bella falcata c'è indi per cui ragazzi andiamo un attimino a vedere e esaminare cara società che cazzo avete combinato sala maker si impegna tutto ieri non ha neanche fatto una brutta partita però gli manca sempre qualcosa quello cosa lì che ha fatto una gran cazzo di accendimento detto dio cosa succede oddio poi come al solito non a incorrere come una formica colbina formica lui del sun maker l'uomo che rimettere dentro quando devi difendere il risultato quando devi far rifiattare qualcuno ma non quando ne andare a vincere una partita punto del quando quando sei in vantaggio di mettere in tossa maker che comunque sia è uno che ti viene a rompere i coglioni quando c'è la squadra avversaria che pressa per andare a recuperare una partita punto questo video cosa qua è la mia opinione l'assenza di real pesato come macinno siete sicuri che ieri con l'atteggiamento che abbiamo avuto quando siamo iniziati se c'era leao cambiava cioè avremmo vinto sicuro non c'è perché non c'era leao ragazzi non c'era leao ok c'è nata anche di su io c'era bene a sera ma io non mi posso trovare ancora con krunic titolare semifinale di champions dai cazzo non mi posso ancora trovare con brian diaz titolare nella semifinale di champions brian diaz non è determinante non è determinante il 10 del milano deve segnare altro che 25 milioni teniamo brandiaz ma vaffanculo tenetelo tu io voglio un 10 che mi fa mi garantisce almeno 10 gol la stagione un 10 che mi garantisca 10 gol la stagione almeno per non parare del 7 cosa cosa ci voleva prendere ziek a prendere uno come ziek cioè fuori rosali praticamente nel celsi non sta neanche mai giocando prendere ziek non mi sono dovuto tenere messias che non giocava nei dilettanti fino a qualche anno fa ma non è colpa di junior il junior è un altro che si impegna ma non ha le qualità per far nasce un finale di champions ragazzi dai parliamoci chiaro dai cazzo andiamo a vedere la loro rosa la nostra non mi fate incazzare dai a raccontare le favole per piacere dai poi poi un altro uscio d'acqua che non ho bisogno ma l'arbitro non ti vogliamo dire che comunque è stato scandaloso ma essere scandaloso è attaccarsi all'arbitro comunque sia dopo la partita di ieri lo ampliare almeno 4 gol almeno e niente questo è quanto ci hanno veramente sul classato questo è il mio pensiero nel secondo tempo hanno avuto un calo nel momento in quei 20 minuti che abbiamo un po reggito quei dieci minuti del secondo tempo che abbiamo fatto ma c'è noi quando quando noi andiamo io mi sono stupo di avere queste per tempo con l'inter pronti via 2-0 per loro poi ci abbiamo il nostro momento di gloria ma praticamente se non c'è le au li facciamo così gli facciamo le carezzine perché se non c'è le au li facciamo le carezze e facciamo le carezze se non c'è le au e non mi si tratta di fuori ma ti ricordi il 2-1 di Giroud ragazzi quella parità di 70 minuti non abbiamo visto palla cioè 70 minuti quella parità lì non abbiamo visto palla inutile stare qua e dice le stronzate l'inter è più forte di 1000 ma perché perché c'ha più rosa cioè e c'ha più rosa cioè noi per essere al pari dell'inter dobbiamo essere tutti gli undici presenti che poi bisogna vedere quali undici quali undici perché a destra le bisogna vedere che cazzo è che gioca ok perché è sempre da farsi così quando giochiamo a destra le cioè Rebic quest'anno boh quello che mi ha deluso di più di tutti è stato Rebic quest'anno ma aspettavo cioè che Rebic gli desse una mano ma era convocato almeno non so neanche se era in panchina ieri c'era perché ormai non mi sono dimenticato anche che faccia abbia il mio idolo cazzo boh comunque boh dai ragazzi mi mando un bacio mi mando un abbraccio cazzo vi devo dire ci sentiamo più tardi adesso devo andare a fare la visita poi domani si rasa tutto tac facciamo il tutto e sabato visitino la mattina di controllo e poi si torna a casa ragazzi un bacio un abbraccio ciao a tutti